E' stata pubblicata in data 29 luglio 2020 la delibera per l'attivazione del Covid Hospital di Agropoli e soprattutto nel documento si evince la rendicontazione degli interventi di adeguamento strutturali effettuati al suo interno nei mesi passati. Sistemazione PVC, sistemazione infissi ed eliminazione infiltrazioni, lavori di serramentistica, revisione termoidraulica, verifiche elettriche, gruppo elettrogeno, fornitura e installazione umidificatori e compressori chiller, riattivazione e impianto di climatizzazione, sostituzione filtri, lavori per infiltrazioni esterne, pulizia e sanificazione degli ambienti. La decisione della riconversione dei lavori all'interno del presidio fu presa nel mese di marzo per via dell'andamento dei casi sull'intero territorio della provincia di Salerno. Infatti la direzione generale dell'Asla Salerno, a causa dell'emergenza Covid-19, attuò una scelta con urgenza massima e diede il via ad una serie di interventi volti a garantire quanti più posti letto di terapia intensiva e subintensiva per fronteggiare la richiesta emergenziale di ricovero di pazienti contagiati o il loro isolamento in tutta la regione Campania. Ma questo, come abbiamo detto in precedenza, già era stato deciso nel mese di marzo. Il Covid Hospital, infatti, non fu attivato per via della pavimentazione non a norma. Allo stato attuale non c'è nessuna novità. Non si è fatta attendere dunque anche la nota stampa di chiarimento riguardo alla delibera dell'Asla da parte dell'amministrazione comunale agropolese. In merito all'atto pubblicato due giorni fa sull'albo pretorio dell'Asla Salerno, ci tengo a specificare, fa sapere il sindaco Coppola, che i lavori per il Covid Hospital di Agropoli sono stati fatti con motivo di urgenza e questa delibera non è altro che la rendicontazione degli stessi per determinare la spesa finale e l'avvio della liquidazione. Nessuna novità, quindi, trattandosi di un fatto puramente burocratico, nulla di fatto allo stato attuale. Il Covid ospita all'agropolese resta fermo al palo per il momento.